orgasmo sostantivo maschile dal greco orgasmos stato di eccitamento parossistico in particolare orgasmo sessuale complesso evento psicofisiologico di breve durata che costituisce l'acme dell'eccitamento sessuale ed è accompagnato da un particolare stato di coscienza intensamente piacevole raggiunto in seguito a stimolazioni sia somatiche sia psicologiche è caratterizzato da una serie di azioni neuromuscolari non controllate dalla volontà che culminano per l'uomo nell'eiaculazione e per la donna in contrazioni per i vaginali altri fenomeni motori e secretori e riflessi determinando la risoluzione delle tensioni sessuali